Un ferragosto da record, anzi da tutto esaurito, con cifre da fare in palle dire anche i risultati dell'estate 2019, l'ultima prima della pandemia. Questa emerge da un'indagine di CNA Turismo e Commercio, secondo cui il trend in ascesa è destinata a continuare. Secondo lo studio saranno 10 milioni, i turistic fra il 12 e il 21 agosto pernotteranno in strutture recettive tradizionali e non, per salire fino a 15 milioni e più, aggiungendo al calcolo quegli italiani che hanno deciso di vivere temporaneamente nelle seconde case. Il pernotto medio degli italiani si fermerà a tre notti, mentre sarà di quattro notti quello dei turisti stranieri. La spesa complessiva, diretta e indiretta, è valutata attorno ai 3 miliardi e mezzo di euro. Il ritorno dei turisti stranieri in Italia è trainato, per quanto riguarda l'Europa, prima di tutto dai vacanzieri provenienti da Germania, Francia e Regno Unito, e l'euro debole sta calamitando verso l'Italia anche molti turisti extra-europei, soprattutto quelli provenienti dagli Stati Uniti. Mesi da record, dunque, non solo per la presenza turistica, ma anche per temperature e siccità. L'estate 2022 è stata catalogata come la più calda fin'oggi, ma se la crisi climatica continuerà a far innalzare le temperature, potrebbe addirittura essere ricordata come una delle più miti rispetto a un futuro sempre più caldo.